Ma adesso ci sarà di sicuro un lieto fine! Che cosa hai detto? È accanto al principe che devi cercare di trovare la tua felicità! Ma un accidente! Hai la voce! Perché cavolo non la usi? Parlare? Diggi una volta per tutte che sei stata tu a salvarlo! Ma ci hai rinunciato pur di poter diventare umana! Non state dicendo solamente delle sciocchezze! Sono stata io a salvare la vita al principe! L'ho portato al mio castello! L'ho curato! L'ho imboccato con le mie stesse mani! Piango perché mi piaceva di più come finiva prima! Cosa? No vita! Che cosa stai facendo? Oh no! Mamma! Oh no! Devo fare qualcosa! Razio! Pesa di meno! Mamma! Ti prego! Fermati! Doraemon! Presto! Dommi il copter! No! La docodemoporta! Anzi no! La macchina del tempo! Un ciuschi qualsiasi che ci faccia scomparire! Oggi è il 15 giugno del concerto di giallo! Dobbiamo andare un uomo! Scusa tanto se non sono veloce! No vita! Oggi per il tuo bene ti sorrirai ma la manzina coi fiocchi, caro signor Bradipo! Scusi! Permesso! Non è possibile! Perciò dateci sotto! Devi essere il migliore! Capitano sempre tutte a noi!